che tempo che fa luciana litizzetto e la gaff sul neo di filippa lagerbach striscia la notizia bacchetta la comica non è sfuggita ai telespettatori più attenti e astriscia la notizia la gaffe di luciana litizzetto a che tempo che fa ai danni di filippa lagerbach in uno dei suoi lunghi monologhi la comica torinese ha affrontato il tema della chirurgia estetica e dopo aver rivelato di non essere mai ricorsa al bisturi ha punzecchiato la showgirl zvedese lucianina ha fatto notare ai telespettatori che sul viso della compagna di daniele bossari qualcosa era cambiato da qualche tempo l'ex modella non ha infatti più il neo vicino la bocca che l'ha contraddistinta fin dagli esordi nello spot della birra peroni appena la litizzetto ha menzionato un probabile intervento di chirurgia la lagerbach ha interrotto la collega rivelando che in realtà è stata costretta a rimuoverlo per una questione di prevenzione perché filippa lagerbach ha tolto il neo vicino la bocca il mio medico mi consigliato di rimuoverlo perché stava crescendo e poteva diventare un neo pericoloso ha fatto sapere filippa lagerbach a che tempo che fa a proposito dell'insinuazione di luciana litizzetto insomma altro che attenzione maniacale all'asse fisico la futura signora bossari ha agito solo e soltanto per una questione di salute una vera e propria gaff quella di luciana che è stata subito bacchettata dagli autori di striscia la notizia e dal pubblico a casa che non ha apprezzato la scarsa attenzione della litizzetto nei confronti della collega senza contare che filippa è apparsa piuttosto infastidita dall'intera vicenda saranno riuscite a chiarirsi dietro le quinte attenzione della stessa